Le attività sono partite nei giorni scorsi. Hashtag Non Solo Compiti è un progetto ideato e promosso da Fondazione Venezia per la creazione di spazi educativi gratuiti dedicati agli studenti dagli 11 ai 14 anni per studiare e partecipare ad attività ludiche, aggregative e ricreative. Sono previsti interventi a Venezia, Mestre Marghera, Riviera del Brenta, Chioggia, Porto Gruaro e Sandola di Piave. Non Solo Compiti è un progetto che la Fondazione di Venezia ha voluto, finanziato, promosso e ideato per agire su tre piani. Il primo è un piano di contrasto alla povertà educativa nel quadro dell'azione che tutta l'ACRI, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie, mette in campo a livello nazionale a favore dei ragazzi, quindi della capacità di integrazione per un segmento, quello dei preadolescenti, da 11 ai 14 anni, a cui cerchiamo di dare un contributo anche di formazione e per le famiglie, quindi a favore della conciliazione lavoro-famiglia e in particolare per le donne che ancora oggi per i ragazzi in questa fascia d'età rappresentano il punto di riferimento e quindi un impegno da parte delle donne particolarmente gravoso. Si inserisce idealmente e anche concretamente in continuità con le attività e la progettazione del Comune di Venezia nell'ambito socioeducativo e in particolare si inserisce in quelle attività coordinate dal Comune di Venezia della cosiddetta rete ad alta intensità educativa. In questo senso viene attuata una vera e propria sussidiarietà positiva e attiva nell'ambito dell'attenzione ai minori e ai minori di questo particolare target di età. Si promuove la partecipazione del privato e del privato sociale a fianco del pubblico in un'ottica di completa integrazione. Dopo un anno e mezzo condizionato da isolamento e limitazioni, la fondazione interviene dunque sull'intera area metropolitana assieme ad una rete di partner della comunità educante con un progetto a favore dei preadolescenti e delle loro famiglie, con spazi ricreativi e educativi gratuiti e diffusi che accolgano i ragazzi fra le 14.30 e le 18.00. Punti di forza del progetto Non Solo Compiti sono la qualità, l'esperienza e la competenza di educatori professionali che garantiranno spazi accoglienti e adeguati ai ragazzi che li frequenteranno. Un altro punto di forza è la sinergia fra istituzioni pubbliche e privato sociale nell'ottica di una comunità educativa che si prende cura dei propri giovani perché si prende cura del proprio futuro.